La stagione degli eventi a Sant'Egidio della Vibrata si conclude con una attività legata all'ecologia e molto particolare. Sì, domenica 13 settembre, per chiudere questa estate piena ricchissima di impegni, l'amministrazione comunale presenta la quinta passeggiata ecologica alla riscoperta dei colli sant'Egidiesi, aperta a tutti coloro che vogliono passare due ore nelle campagne e nei colli appunto sant'Egidiesi perché il percorso porterà tutti gli intervenuti alla scoperta proprio di tutte le varie colline. Poi proprio in questi giorni siamo in periodo di vendemmia, quindi passeremo in mezzo a chi sta lavorando anche per darci un buon vino per la prossima stagione. E quindi invitiamo tutti i sant'Egidiesi e perché no tutti gli abitanti della Val Vibrata a partecipare a questo evento che è la passeggiata ecologica con partenza alle ore 9.30 dal giardino di Corso Matteotti a Sant'Egidiesi e a Vibrata e il ritorno sempre dopo circa due ore alle ore 11.30 previsto sempre nel giardino dove ci sarà un ristoro per tutti gli intervenuti. Ristoro ricco con anche una bella porchetta offerta dall'amministrazione comunale. Colgo anche l'occasione, visto che me ne date la possibilità e ringrazio Super G per questo, per invitare tutta la cittadinanza domani al nuovo stadio con erba artificiale di Sant'Egidio. Si disputerà la gara tra Ascoli e Avellino di primavera che ci onora e onora l'amministrazione perché proprio da pochi giorni è arrivata l'agibilità definitiva di questa nuova struttura che vede ogni giorno 150 ragazzi che hanno la possibilità di allenarsi in una struttura innovativa calcisticamente parlando e che l'Ascoli ha voluto prendere appunto come utilizzo per poter svolgere le partite professionistiche della sua primavera e degli allievi nazionali. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa gara che è sicuramente gradevole perché parliamo di giovani promesse del calcio che magari vedremo tra qualche anno in Serie B e perché no in Serie A.